Dagli amici dello stand della Calabria l'ultimo saluto di questa tre giorni, una tre giorni meravigliosa, una tre giorni che ha dimostrato come con poco si può dare tanto, con l'eccellenza del territorio si può fare veramente sviluppo, con l'amicizia e la cooperazione si possono raggiungere grandi risultati e allora con grande entusiasmo, guardando al futuro, guardando alle prossime edizioni, noi ringraziamo tutti quelli che hanno voluto partecipare a questa salona, a questa tre giorni, tantissime persone, veramente un successo inaspettato, ringraziamo la Fiera di Genova che ci ha ospitato, Anci Liguria e Fondazione Carigia che hanno creduto in questa manifestazione e tutti i comuni, le regioni, le province che hanno partecipato e tutte le categorie che hanno voluto dimostrare qui come si possa davvero ancora credere in un futuro migliore rappresentando il meglio della nostra terra e del nostro territorio.